Oggi siamo qui e tutti assisteremo al 58esimo Giro Ciclistico Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia. Un evento veramente grandissimo, spettacolare, che negli anni ha dato veramente lustro al nostro territorio, ma ha fatto anche crescere grandissimi campioni che poi abbiamo potuto vedere ad altissimi livelli. Quindi ben convinto che tutta la Carnia saprà essere molto ospitale con tutti i nostri ospiti che arriveranno qui sul nostro territorio, sia gli atleti ma anche gli accompagnatori. Colgo l'occasione anche per ringraziare veramente tutti gli organizzatori di questo bellissimo evento. In primis la Libertas Ceresetto, perché è giusto dire anche in questa occasione che se non ci fosse il lavoro alle spalle con tanto volontariato di queste associazioni sportive non potremo sicuramente far crescere i nostri atleti ed avere un domani tanti ma tanti campioni. Grazie.